Daria Raffo, 44 anni, vive a Carrara con il marito e gli adorati animali, si occupa di bambini anziani e disabili e ha una grande passione per le nostre appuane. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché crede che sia l'unica alternativa possibile per ricominciare a costruire una città viva e ben amministrata nell'interesse di tutti i cittadini. Sogna con De Pasquale Sindaco, una città che riesca a far fronte all'emergenza sociale con una gestione equa, condivisa e partecipata delle risorse del nostro territorio.